Salve a tutti ed eccoci giunti all'ultima parte del corso completo di base ed intermedio di Adobe Premiere Pro CC 2019. Qua ci dedichiamo esclusivamente al rendering, quindi all'esportazione finale del nostro progetto. Allora, quando abbiamo finito di montare il nostro progetto, clicchiamo su una qualsiasi parte della timeline, tranquillamente, e facciamo File, Esporta, File Multimediali. Ed ecco qua. Qui si è aperta la finestra di esportazione, era qua, vedete del nero perché ho giocato con le opzioni di posizione. Qua, intervallo sorgente, quindi che cosa vogliamo esportare? Da attacco e stacco, se eventualmente lo abbiamo definito. Tutta la sequenza, area di lavoro personale, mettiamo tutta la sequenza per essere sicuri che venga esportato tutto quanto. E qua a destra ci sono le opzioni di esportazione. Intanto, prima di procedere, facciamo annulla e vediamo come usare l'attacco e stacco per esportare solo una porzione. Definisco dove deve iniziare, attacco, definisco dove deve terminare, stacco, ed ecco fatto, File, Esporta, File Multimediali. Di base lui ha capito che voglio esportare da attacco a stacco ed ecco qua. Il filmato sarà solo di questi pochi secondi. Adesso, clicco qua e metto tutta la sequenza invece per dargli tutti quanti i secondi. Qua possiamo vedere l'anteprima usando questo selettore, quindi possiamo spostarci per vedere se è tutto corretto. E qua, infine, definiamo il risultato. Fortunatamente Adobe Premiere Pro CC ha degli ottimi file predefiniti che possiamo utilizzare. Quindi, qua in formato, abbiamo tante cose che possiamo scegliere. Quindi, definiamo intanto il codec, che io consiglio H.264. Quindi H.264, ormai il codec che tutti quanti utilizzano, codifica H.264 per i video. Se volete esportare l'audio, allora c'è MP3. Quindi se noi clicchiamo su MP3 verrà esportata solamente la traccia audio, ovvero tutte le tracce audio verranno mixate dentro un'unica traccia MP3. In questo caso, con questi secondi. Possiamo scegliere qua i kbps, quindi 128, 192 o 256, che queste ultime due sono alta qualità, ovviamente. Qua è molto importante per definire il percorso di salvataggio e il nome. Quindi andiamo a ridimensionare il file. Riepilogo. Kbps. E qua ci siamo. Adesso andiamo in H.264 e vediamo l'esportazione video. Cliccando qua, appunto, ci si apre una cartella predefinita che possiamo cambiare per il salvataggio. Possiamo cambiare il nome, videoprova, ad esempio. Salva. Ed ecco qua, vedete, è cambiato il percorso e il nome. Esporta video e esporta audio devono restare spuntati. Noi qua scegliamo adesso un predefinito. Quindi gli abbiamo detto che vogliamo esportare in H.264. E lui ci chiede, ok, per cosa ti serve? Vuoi che sia come sorgente bitrate elevato, quindi alta qualità, come sorgente ma un bitrate medio. Quindi risparmiamo in megabyte. E qua ce ne sono altre. Guardate, ci sono le impostazioni per i video di Facebook, 1080p, 720p, per i video di Vimeo e di YouTube. Se volete esportare su YouTube vi consiglio assolutamente di usare questi settaggi. Ad esempio 1080p Full HD. Ecco qua. Questa è la risoluzione in Full HD. Questi sono i fotogrammi che possiamo anche cambiare di nuovo, però sono 25, nel mio caso va bene. Aspetto pixel quadrati 1.0, va bene. PAL, standard TV. Qua è già tutto preimpostato. E questa è la parte più importante, il bitrate, che su YouTube è impostato per 16, perché comunque più su di quello non ci va. YouTube infatti effetta una compressione, se voi anche portate gli mbps molto avanti, YouTube lo comprime comunque. Quindi avreste un risultato di un file che spreca più un megabyte per niente. Infatti, se io aumento i bps, guardate quanto aumenta la dimensione del file. Guardate. Quindi, c'è da capire ancora cos'è questo valore di mbps. Praticamente è il valore della qualità del filmato, che non può essere migliorata, però può essere semplicemente portata più vicina possibile a quella originale. Dico più vicina possibile perché ogni volta che voi fate un rendering, un'esportazione, bene o male, una certa perdita di qualità c'è. Può essere praticamente invisibile, ma c'è. Quindi noi, se vogliamo esportare un filmato per il nostro computer, quindi non online dove subirà un'altra compressione, e vogliamo mantenere la massima qualità possibile, che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo cercare di portare questo valore di mbps al valore corrispondente al nostro filmato. Quindi andiamo nella nostra cartella. Questo era il filmato che state vedendo, quindi tasto destro, proprietà, dettagli, e andiamo a vedere la velocità dati. Come potete vedere è in 46, diciamo approssimiamo, 47.000 kbps. Complessiva 48.000 approssimato. Quindi prendiamo questa, 48.000. 48.000 sarebbe 48 mbps, quindi fate la conversione. Noi dovremmo andare qui e impostare 48.000. Secondo me non ha molto senso lasciarla così alta, perché comunque io vedo che già a 16, a 20, si ottiene un buon risultato. Comunque, in via teorica vi dico, dovreste fare così. Quindi lasciare il bitrate in modo più alto possibile, quindi 48. Non scendete mai sotto il 16 se avete un buon filmato di alta qualità in full HD, perché sotto 16 si comincia a vedere qualcosa di perdita a livello molto visibile. Quindi io vi dico, se esporto i filmati anche per conto mio, e uso la reflex, quindi alta qualità video, e come potete vedere avrei 40 mbps, io comunque resto su questo valore, che è quello impostato per YouTube. Quindi bene o male io esporto sempre a 16, in modo da scegliere un compromesso fra qualità e dimensione finale in megabyte. Ecco qua, qua ci sono altre cose. Nel caso il video fosse in VR, questo è da spuntare. Usa massima qualità di rendering, io sinceramente non lo spunto mai, lascio così come il preset. Ed ecco fatto. Quando avete finito fate esporta, e lui va ad esportare il filmato. E quindi qua vi basta solo attendere che lui abbia terminato il rendering. Qua c'è il tempo residuo stimato. Ora in questo caso lo annullo. Comunque lui andrà a creare quindi il filmato finale nella cartella che avete scelto, con questo nome. Quindi, altre cose che dobbiamo vedere. Allora, come sorgente, se clicchiamo, ci assicuriamo che lui faccia aderire queste impostazioni a quelle della sorgente. Se io ad esempio vado a toccare questo valore, e quindi lo faccio aumentare, vedete? Si creano le bande nere perché gli ho detto che la risoluzione laterale deve essere più grande. Se clicco come sorgente, lui ci fa tornare tutto quanto come deve stare. E vedete? Qua assicuratevi che non ci siano bande laterali. Ovvero vuol dire che il filmato corrisponde alle dimensioni del progetto. Bene. Poi, altre cose da vedere. Allora, possiamo esportare anche in, ad esempio vedete, PNG, JPG. Però attenzione perché qua ci creerà tutta una serie di fotogrammi. Quindi state molto attenti. Se cominciate ad esportare adesso, lui crea tutti i vari fotogrammi in JPEG. Sequenza JPEG, ok. Qui abbiamo AVI, formato che non consiglio più perché comunque si usa veramente poco adesso. Molto meglio H2S4. Comunque qua abbiamo anche MPEG 2, ad esempio. Utili nel caso voi aveste una TV o un dispositivo che non supporta l'H2S4 per un qualsiasi motivo e volete, ad esempio, esportare in MPEG 2 come codifica. QuickTime. Audio forma d'onda per esportare in WAV. Quindi se avete bisogno di esportare in audio non compresso, questo è il WAV. 48 16 bit. Codec audio non compresso per l'appunto. Formato di campionamento. Canali stereo. E fate esporta per esportare in WAV. Guardate, il nome output ha anche l'estensione .WAV, il che vuol dire che esporterete in WAV. Mentre con H2S4 esporterete in MP4. Con QuickTime invece esporterete in MOV. Poi qua abbiamo altri formati, comunque i più importanti da conoscere sono quelli, assolutamente. Io esporto sempre in H2S4, quindi attualmente rimane il formato migliore per esportazione. Ah, poi una cosa che non abbiamo visto. Allora abbiamo visto i settaggi relativi al video, ma non abbiamo visto questi. Questi sono i settaggi relativi all'audio del video, che di base sono già corretti. Formato da audio AAC, consigliato. 48.000 frequenze di campionamento, che è la migliore per i video. Qualità audio alta, benissimo. Quindi KBPS 320. Questo non impatta tantissimo sulla dimensione del file, quindi... Quello che impatta di più ovviamente è il video, quindi lasciate pure qualità alta per l'audio. Qua possiamo anche restringere l'area dell'esportazione, quindi abbiamo utilizzato adesso intervallo sorgente personale, ovvero gli stiamo dicendo che deve esportare solo questo piccolo pezzettino. Ecco fatto. Oppure possiamo tornare qua e fare tutta la sequenza per dirgli no, ho sbagliato, voglio esportare in realtà tutto quanto. Bene. Ricordatevi che lui esporterà tutto quello che sta a nulla in questa sequenza aperta. Quindi sta esportando la sequenza. Se avete più sequenze, assicuratevi di selezionare la sequenza giusta. Se adesso vi faccio file nuovo, elemento, sequenza, ok, e ci metto solo questo filmato, lo ridimensiono a 15 secondi, vedete faccio file, esporta, file multimediali, lui mi sta esportando questa a 15 secondi, se invece vado qua, che è l'altra sequenza, qua tanto cancello attacco e stacco, faccio file, esporta, lui mi esporta questa. Quindi vi ricordo dovete selezionare prima la sequenza. Poi c'è coda. Qua possiamo mettere in coda più rendering, quindi se clicco lui apre Adobe Media Encoder. Eccolo qui. Che è un programma incluso nell'abbonamento di Adobe Premiere Pro CC. Ed ecco qua, lui ha messo in coda il filmato con le impostazioni che abbiamo selezionato noi nella sezione del formato video. Quindi noi cosa possiamo fare? Adesso andiamo anche nell'altra sequenza, ad esempio, sequenza 6, faccio file, esporta, file multimediali, seleziono tutte le varie impostazioni, faccio coda anche qua, e lui adesso mi va ad inserire anche quello. Ecco fatto. Quindi abbiamo due file che vanno nella cartella prova pronti per essere esportati. Facciamo play. Metodo per risparmiare un po' di tempo quando ci dobbiamo allontanare e vogliamo ottimizzare i tempi. Quindi gli diamo tutto quello che vogliamo esportare, quindi anche più progetti insieme. Bene, quindi, spero di aver parlato di un bel po' di cose. Se ci sono cose che mi sono dimenticato, le troverete quasi sicuramente in tutorial in questa playlist. Sono veramente numerosi e sono tutorial relativi a effetti che possiamo realizzare con questo bellissimo programma, funzioni, eccetera, eccetera. Continuerò a fare tutorial man mano che imparerò cose nuove. Vi ringrazio per avermi seguito. Un saluto a tutti. Grazie. Grazie.